cosa sono i vfx bene la parola vfx dall'inglese un acronimo significa visual effect ossia effetti visivi ancor più nello specifico vogliamo parlare di effetti visivi digitali perché esistono anche gli effetti speciali che sono un'altra cosa gli effetti speciali sono quelli pratici realizzati sui set per farvi un esempio possono essere le esplosioni quelle causate da petardi all'interno ad esempio di terreno per simulare quello che un colpo di pistola ha sparato nel terreno questi elementi possono essere aggiunti anche in digitale ma dove la società di produzione la casa di produzione ha la possibilità durante la fase di ripresi di aggiungere effetti speciali dal vivo e sono sempre ben accetti per aumentare quella che è la realisticità di una lavorazione infatti quando andiamo a realizzare una scena che deve contenere degli effetti visivi è sempre bene prevedere prima tutto quello che c'è da fare dopo questo perché quando andiamo a realizzare gli effetti visivi è vero che al computer oggi possiamo fare tantissimo ma è vero anche che per ottenere il miglior risultato possibile c'è bisogno di avere un'idea molto ben chiara di quello che vogliamo andare a fare e quindi lavorare preparandoci per la realizzazione di effetti visivi molto spesso dove c'è la possibilità ci si va incontro già sul set quindi andiamo sul set ad aggiungere degli elementi che possano essere d'aiuto per la lavorazione in post produzione quindi tornando alla nostra domanda cosa sono gli effetti visivi gli effetti visivi sono tutti quegli elementi tutte quelle lavorazioni digitali che vengono apportate al materiale girato che possa essere una cancellazione forse uno degli interventi molto più comuni è cancellare degli elementi da una scena o rimpiazzarne con altri mi faccio un esempio pratico viene girata una scena di giorno con un cielo molto terzo c'è bisogno di nuvole rimpiazzare il cielo con un cielo nuvoloso quella è una lavorazione di effetti visivi ci sono lavorazioni più semplici lavorazioni più complesse ci sono lavorazioni dove basta un solo artista e ci sono lavorazioni dove vengono impiegati molti più artisti vi faccio un esempio pratico il film dove ci sono stati più effetti visivi e ha richiesto un team più grande probabilmente fino ad oggi è stato avatar dove hanno lavorato quasi mille persone solo del reparto di effetti visivi e quindi perché bisognerebbe utilizzare effetti visivi e perché cosa si usano effettivamente allora gli effetti visivi devono essere utilizzati per raccontare qualcosa che dal vivo non è riproponibile faccio un esempio molto chiaro deve crollare un palazzo deve cadere un palazzo dove c'è un aeroplano che si schianta all'interno di sicuro in fase produttiva quando andiamo a girare a prescindere dal budget che si ha a disposizione questa è una cosa piuttosto pericolosa e piuttosto infattibile dal vero ed è qui in questi casi che entrano in gioco gli effetti visivi un altro esempio molto lampante e molto chiaro può essere quello dei supereroi è impossibile riuscire ad ottenere un uomo che vola quindi si ricorre agli effetti visivi non c'è bisogno per forza di ricostruire l'uomo in tre dimensioni in 3d infatti dopo spiegheremo anche quali sono le tipologie di lavorazione si può anche attaccare con una gru con dei cavi questa per questo attore riprenderlo nel cielo ma in quel caso c'è sempre bisogno degli effetti visivi per poter cancellare quegli elementi quindi gli effetti visivi ad oggi per la maggior parte dei racconti sono sempre molto ma molto importanti molto spesso non solo per riuscire a raccontare una storia ma per raccontarla al meglio e per evitare di mettere in pericolo le persone sul set un altro esempio che mi viene da fare è quello ad esempio di un attore che vuole su di un personaggio di un film che vuole suicidarsi e lanciarsi dal quarto piano di un palazzo per non mettere nella condizione a quell'attore di stare in bilico al quarto piano di un palazzo la stessa scena può essere girata al primo piano quindi con una condizione di totale sicurezza per poi con gli effetti visivi prendere quel girato e spostarlo al quarto piano del palazzo quindi ci sono moltissime possibilità di utilizzo degli effetti visivi e moltissime sono le possibilità che abbiamo del loro utilizzo dalla creazione di mondi fantasiosi e fantastici come quelli dei grandi film hollywoodiani alle più semplici ma comunque importanti cancellazioni ad esempio faccio un esempio molto 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 stupido quello dei film storici se vogliamo girare una scena di roma nel 1920 di sicuro non ci saranno gli stessi elementi che se la riprendiamo oggi nel 2020 l'esempio più banale sono i cartelli stradali molto spesso durante la fase di ripresa questi vengono vengono smontati fisicamente per poi essere rimontati successivamente ma ci sono delle condizioni o dei casi in cui è un po' più difficile ad esempio un grattacielo grattacielo non può essere eliminato fisicamente quindi verrà cancellato digitalmente quindi possiamo racchiudere quelle che sono le tipologie di lavorazioni degli effetti visivi o come vengono utilizzate in quattro macro categorie che sono cancellare sostituire ricreare e creare analizziamo velocemente queste quattro macro categorie cancellare parliamo di cancellare degli elementi che possano essere come appena detto dei cartelli stradali che possa essere un palazzo all'interno di una scena ambientata in un'epoca precedente che possano essere dei cavi di sicurezza al quale gli attori sono agganciati in una situazione di pericolo oppure andando un pochino più nello specifico andare a cancellare quelle che sono i punti di giunzione di un eventuale trucco prostetico il trucco prostetico ad esempio è un effetto speciale dal vivo sono quei trucchi che vengono applicati da specialisti del make up artist degli effetti speciali sul set ad esempio il volto di uno zombie vengono messi degli elementi che si chiamano per l'appunto trucco prostetico e molto spesso può capitare che nell'aggiunzione durante un'intera giornata di riprese una piccola aggiunzione di questo trucco possa scollarsi e quindi noi andiamo a cancellare quella che è l'elemento di giunzione ho fatto un esempio molto blando ma come può essere il cancellare un brufolo dal viso di un attore sostituire beh qui entriamo forse in quello che è l'immaginario più grande che gira intorno agli effetti visivi il sostituire degli elementi la prima cosa che ci viene in mente anche quando parliamo di effetti visivi in generale è quello del green screen il chroma key il green screen questo enorme elemento verde sul quale gli attori recitano è un elemento che sarà in seguito sostituito con un altro elemento digitale molto spesso vengono utilizzate queste tecniche perché ad esempio nel raccontare una storia ambientata nello spazio è un po' più difficile girare effettivamente nello spazio quindi è più semplice girare un footage in uno studio al chiuso con un elemento verde in questo caso che può essere digitalmente rimosso e rimpiazzato con lo sfondo dello spazio ma questa è una delle tante esigenze un altro che vi ho prima accennato l'esempio è quello del cielo nel caso in cui noi avessimo un cielo molto sovraesposto quindi la giornata quando abbiamo ripreso non era delle migliori in quel caso andiamo a sostituire il cielo vecchio con uno nuovo completamente digitale che andiamo a regolare noi quindi decidiamo quanto è nuovo le devono esserci quanto deve essere azzurro o altro ricreare gli effetti visivi servono anche e soprattutto a ricreare delle situazioni faccio un esempio molto semplice un film ambientato nell'antica Roma non abbiamo tutt'oggi delle location dove poter girare effettivamente in una Roma antica oltre alle location che possono essere scenografate ma che hanno dei costi davvero enormi e comunque non bastano alle volte per raccontare una storia noi degli effetti visivi andiamo a ricreare quelle che possono essere delle ambientazioni o ancora possiamo andare a ricreare degli elementi del corpo di un attore come ad esempio far crescere la barba ad un attore in quel caso andiamo a ricreare quella che è una barba che non c'è quindi ci sono tante possibilità e questa è un'altra grandissima macro categoria per poi giungere all'ultima che è forse quella lì che più racchiude l'essenza degli effetti visivi perché è quella più quella che si nota di più mettiamola così che è quella del creare infatti con gli effetti visivi si può creare tutto si possono creare nuovi mondi si possono creare personaggi fantastici si possono creare supereroi si possono creare navi stellari si può creare qualsiasi cosa l'importante è sempre la stessa regola che gli effetti visivi siano esclusivamente uno strumento a favore della narrazione perché questo è uno dei grandi problemi molto spesso si pensa di utilizzare gli effetti visivi per creare dei contenuti belli visivi che attirino mi vengono in mente dei grandi film blockbuster americani ma molto spesso per andare a guardare quei contenuti ci accorgiamo che non hanno struttura che non hanno storia quindi gli effetti visivi servono esclusivamente per raccontare una storia per aiutare il racconto di una storia naturalmente vi faccio un esempio pratico se dobbiamo raccontare la storia di un principe che salva una principessa combattendo con un drago in quel caso abbiamo bisogno degli effetti visivi e sono una necessità